Oggi 5 giovedì gennaio, giornata come possiamo vedere splendida, soleggiata, quasi primaverile. Sono le 11.20 e ci apprestiamo a discutere anche stamattina di qualcosa di più, magari più così futile. Un attimino che prendo un pochino di caffè, però sempre incazzato brutto di prima mattina. Stamattina ho dovuto fare una prenotazione perché devo farmi degli esami che poi precedono questi esami un'operazione al più presto, l'ennesima operazione purtroppo. La prima volta ho aspettato in attesa praticamente con questa prenotazione quasi 15 minuti. La signorina mi ha detto si è scusata, ma si è scusata vagamente, senza scuse formali. Ha detto guardi noi abbiamo una prenotazione valida per la sua situazione, per ciò che deve fare. Un attimino che metto a posto l'albero di Natale. Dice per quello che deve fare se ne parla il giorno 12. Io ho detto guardi il giorno 12 effettivamente pensavo che si potesse fare questo esame velocemente come fanno da prenotice, da noi si prenota, comunque se non può venire il giorno 12 poi è a data da destinarsi, ho detto signorina guardi cerchi di trovarmi prima del giorno 12, non è possibile. Vabbè allora ci penso. Guardo la situazione, il giorno 12 purtroppo di pomeriggio avevo un appuntamento, devo fare delle cose diciamo a una gamba, degli esercizi e devo andare in un centro perciò ero prenotato per le 4 e mezza. Non mi ricordavo, meno male che visto. Allora di mattina non mi è possibile per altri motivi e allora ho ridelefonato. Signori miei, questa volta mi ha fatto stare con l'orologio puntato perché la chiamata all'orologio, lo sapete benissimo, vengono totalizzate in minuti d'attesa, 44 minuti esatti. Signori miei, ho sentito quel dischetto che ancora c'erano nella testa, tutti gli operatori sono in questo momento occupati, tutti gli operatori chi? Là se c'è un operatore è già assai e deve fare tante altre cose perché questi danno pure anche adito al Facebook a poter scrivere su Facebook oppure su e-mail, perciò la signorina deve guardare le e-mail, deve guardare Facebook e poi quando avrà qualche secondo libro alza il telefono o manda in onda la telefonata. Avete capito? 44 minuti, quasi 45 minuti. Nel momento in cui io mi sono un pochino lamentato, ho detto signorina ma è mai possibile? Guardi, io mi ricordo perfettamente lei quello di un'ora fa che voleva la prenotazione per il giorno 12. Ho detto benissimo signorina, lei ha una memoria eccezionale, doveva fare la dottoressa. Sì, dice, ho una memoria, ricordo tutto, è benissimo. Ho detto signorina vuole che le risponda da Giulianese o da Svizzero? Perché lei vedo che mi ha fatto aspettare per 45 minuti, diciamo, in una maleducazione come azienda incredibile. E ora mi sta parlando da Svizzera, come le devo rispondere, da Giulianese o da Svizzero? Dice, faccia come crede. Signori mie, una protervia, una presunzione da far paura. Paura, questa è la società del Sud. Non dico italiana perché forse, non so, forse a Cremona, a Verona, a Torino, queste cose non vengono, diciamo, neanche pensate. Lo capisco perfettamente. Ma purtroppo qua è così. Questo è il vivere quotidiano. Cioè, non solo che uno va a pagare, e profumatamente, perché quando si tratta di questi esami bisogna pagare tantissimo. Per giunta deve essere trattato proprio come un uomo di strada, come persone di strada, persone come zingari. E dobbiamo stare pure zitti. La signorina quasi quasi mi voleva dire, non l'ha fatto per pochi secondi, dice, se continuo a parlare metto il telefono giù. Avete capito? Non l'ha fatto perché magari ha paura di perdere quel po' di 300-400 euro che gli daranno a mese, perché secondo me più di questo non le daranno a quella tizia. Perché se era buona si faceva un altro lavoro. Purtroppo questo è il sistema che c'è al sud, il sistema lavorativo che è precario in tutto, sia da un punto di vista di educazione, sia da un punto di vista di preparazione, sia da un punto di vista di tutto. Perché quello che fa qualche lavoretta, soprattutto questi lavori che oggi sono sotto i riflettori come possono essere telefonini, telecamere e così via, i poveri cristi che ci lavorano prendono pochissimo. Poi quando qualcuno si lamenta lo mandano a quel paese e fanno perdere anche i clienti. Ma perché? Perché l'azienda, chiamiamo l'azienda, la ditta come la volete chiamare, questi proprietari saltimbanchi, non pagano questi tizi. E perciò la professionalità non può scattare mai. E' come dire che noi a un croupier di Casinò gli diamo 1200-1300 euro al mese. E il croupier è costretto a rubare con tutti i soldi che trova e prende nelle mani durante l'arco della giornata, durante il suo lavoro, giustamente un paio di gettori se li mette in tasca. Questo è poco ma sicuro, come hanno fatto tanti a San Benzani tanti anni fa, vi ricordate, ci furono degli scandali. Forse l'altro Casinò non si è mai sentito, quello della Val d'Aosta, quello di San Benzani. Ma a Sanremo più di una volta ci sono stati degli scandali con croupier che si prendevano i soldi e si li mettevano in tasca. Ci sono state, diciamo, tante denunce, se ricordate, oltre 20 anni fa. Ecco, dico, come dire che noi prendiamo un croupier e gli diamo 1200-1300 euro al mese e poi pretendiamo che sia una persona seria, onesta e anche dedita al lavoro, che sappia trattare bene la clientela. E' impossibile, è impossibile. Allora, innanzitutto ci dovrebbero guardare intorno e vedere se una persona che prende 400-500 euro al mese dopo che sta bene o male un mese dietro il suo lavoro possa essere una retribuzione giusta. Queste sono cose che vanno accertate. Un buon governo va non solo a guardare il reddito di cittadinanza, che non l'ha guardato per niente, l'ha messo da parte perché c'era un pregiudizio di base e così è stato. Ma prima di parlare del reddito di cittadinanza, io direi a questi signori che stanno al governo di andare a vedere quanto prende di nascosto in nero una persona, mettiamo che lavora in un bar per un mese intero e alla fine il proprietario, un grandissimo delinquente, perché non è altro che un delinquente, in tutto il sud parlo, non a Napoli, non solo a Giuliano, non solo qua a Marano o San Cipriano d'Aversi, in tutti i posti del sud. Prende poi alla fine del mese a questo povero Cristo, le dà 600 euro. 600 euro dopo che sta 30 giorni, uno dopo l'altro, lavorando anche la domenica e difficilmente darà il giorno libero, lavorando 9, 10 e 11 ore al giorno e spesso con i turni di notte. Io le ho viste perché ho visti diversi ragazzi, figli dei miei colleghi, amici, compagni, come li volete chiamare. Cose assurde. E lo Stato dov'è? Questi controlli non li fa. Questi sono pagamenti in nero, questo è incentivare il non lavoro, perché se il lavoro viene retribuito in nero non è lavoro, è delinquenza. E' delinquenza da parte di chi riceve questi soldi e si sottopone a una schiavitù. Ed è delinquenza da parte del proprietario che non rilascia nessuna ricevuta, non dichiara niente e schiavizza le persone. Perché dopo che se ne va quel tizio o quella tizia, subito ce ne sono altre 10 pronte a sostituirla o a sostituirlo. Avete capito? Queste sono le situazioni che si vedono giorno dopo giorno nella nostra società. E lo Stato dov'è? Dove sono i controlli? Si aprono sale gioco, bingo, sale bingo, come le volete chiamare, slot machine. Slot machine sono tutte imbrogliate. Giocate voi alle slot machine. Vi invito, se prendete 10 euro, dopo che ne avete messe 300 o 400, io vi pago la qualsiasi, vi pago non solo il caffè, ma anche una vacanza. Questa è la situazione. E queste slot machine non vanno regolarizzate, non ci sono dei principi. Non doveva ritornare al cliente il 60-70% quando si è parlato e ora non se ne parla più. E i controlli dove sono? Ogni 2-3 giorni si deve entrare in una sala giochi e vedere se tutto è funzionante. Loro devono aprire tutto per vedere se hanno messo le mani. Perché, come dicono loro, i signori delinquenti, che loro non possono mettere le mani dentro le slot machine. Invece loro ce le mettono le mani. E come? E i livelli sono a zero, non fanno prendere neanche 10 euro. Ve lo dice chi, praticamente attraverso compagni che sono malati di questi giochi, come sono malati di bingo, come sono malati di cavalli, come sono malati di tanti altri giochi, non prendono neanche un centesimo. Perché quasi tutto è imbrogliato. E tutti coloro che hanno questi giochi, queste attività, sono tutti personaggi particolari. Io vi dico una cosa, lo dico sempre alle persone in Cino. Se voi aveste, non so, 300-400 mila euro da investire, una sala bingo, cara signora, certe volte sono marito e moglie, dico a voi non ve la danno la sala bingo. Dici perché? Perché non fate parte della scuderia. Perché per avere una sala bingo bisogna essere in un determinato modo. Se non siete disonesti professionisti e avete una fame alle spalle, la sala bingo non ve la daranno mai, pur avendo i soldi disponibili per poterla aprire. Avete capito? Dici ma lei la pensa così? Non è che la penso così, è la realtà. Non ci sono controlli, non c'è un controllo. Tutti questi giochi sono tutti truccati. Tutti persone che perdono la pensione, persone che perdono lo stipendio, persone che si rovinano, donne che rubano, rubano, tra virgolette, il postamat oppure il bancomat al marito o al compagno e si vanno a fare 300-400 euro al giorno senza portare mai una vincita dietro. Avete capito? Famiglie rovinate. E lo Stato dov'è? Che mi parlano, che vanno dietro al reddito di cittadinanza. Voi dovete andare dietro a quello che c'è al reddito di cittadinanza, a scoprire tutte queste magagne, tutte queste diavolerie, tutti questi imbrogli, se siete veramente un governo di destra. Ma siccome attualmente avete fatto solo bla bla bla, purtroppo, in senso buono, forse ancora vi dovete organizzare, ma il governo di destra si vede nel momento in cui si vede lo Stato e lo Stato vuol dire controlli, controlli quotidiani, giorno dopo giorno. Tante cose che oggi vengono fatte così, all'acqua di rose, come si suol dire, non devono esistere più. Se il post deve essere per tutti, deve essere per tutti. Non che l'80% in queste zone campane, Aversa, salendo verso Roma, nessuno lo tiene perché dici che non può pagare le commissioni. Attualmente il gas è diminuito, il signorino dove io prendo il gas mi ha detto sempre 18 euro. Scusate, ho detto, ma com'è? Il gas diminuisce e le bollette, il prezzo aumenta. E dici, ma io un euro lo devo prendere perché pago le commissioni, perché io ho pagato col post. Avete capito? Come siamo combinati? Chi è che parla? Chi è che parla? Nessuno. Non parlando a nessuno, c'è una complicità sociale, c'è una complicità da parte di tutti e quindi gli cittadini, pur venendo vessati, pur venendo schiavizzati, pur venendo imbrogliati, non parlano, sono complici. Questa è la realtà. Mettetevela bene in testa questa realtà. E questa, siete tutti complici, non c'è un video dove c'è una persona che dica succede questo, questo e quest'altro e non ne possiamo più. Anche se io non gioco al bingo, alle slot, non vado ai cavalli, non posso non vedere queste cose, non posso far finta di niente, non posso girare, diciamo, lo sguardo dall'altra parte o la testa, come si suol dire, dall'altra parte. Io devo dire queste cose. Ci sono tante cose che non vanno. Soprattutto parliamo poi dei prezzi di questi supermercati, altre zone, perché i supermercati non è che i proprietari sono degli angeli. I proprietari dei supermercati sono persone che di soldo sono messe là per riciclare attraverso altre persone denaro sporco. I prezzi, sempre in aumento, fanno finta di mettere un giorno sì, un giorno no, qualche sconto per fine mese, per questo qua, risparmi a destra e a manca e poi su tutti gli altri prezzi aumenti di 20-30 centesimi al giorno. Io lo so perché entro nei supermercati, vedo queste ingiustizie, questi atteggiamenti da parte dei proprietari e se parli, spesso parlo con loro, ti minacciano, ti dicono fatti i cazzi tuoi perché stai attento con chi stai parlando. Avete capito cosa ti dicono? Dove sono i controlli? Noi vogliamo i controlli, uno stato di destra deve controllare rispetto a uno stato di sinistra che pensa solo a mangiare e a non governare. Uno stato di destra, se è veramente di destra, deve attuare i controlli, tutti i controlli e deve anche scoprire nelle varie case chi può mangiare e chi non può mangiare e chi non può mangiare deve essere veramente aiutato perché non è che uno non mangia per divertimento, non mangia perché è stato più sfortunato nella vita, perché non ha avuto certe capacità che la natura ha dato ad altre persone, non ha certe amicizie, non ha certa tendenza a delinquenziale e perciò è rimasto indietro e questa persona non può morire di fame, deve avere una dignità davanti allo stato, davanti alla società, davanti alla famiglia, davanti a tutto. Avete capito? Ma solo che queste cose non le capirete neanche davanti all'ultimo giorno dei vostri giorni. Pur sapendo che questo è l'ultimo giorno dei vostri giorni, voi ve ne andrete per come siete omertosi, complici e delinquenti. A voi tutti buona giornata.